e bentornati siamo dunque arrivati all'ultima parte del nostro speciale mini pond day la parte che insomma chiude il cerchio abbiamo qui con noi paolo pescetto di refk buongiorno pescetto e bentornato insomma per chiudere il cerchio tommaso baldissera pacchetti allora pescetto eravate dietro le quinte avete ascoltato tutto quanto tutto dalla prima parola abbiamo fatto il nostro percorso abbiamo cercato di spiegare come funziona il mini pond tutti i vari attori che entrano in causa per l'emissione di un mini pond innanzitutto c'è qualcosa che è tornato bene o è qualcosa che non è tornato cioè che non non torna voi avete messo il vostro mini pond abbiamo avuto modo di parlarne a suo tempo già l'anno scorso aveva messo un mini pond questa è la seconda volta esatto poi è un abituato il mini pond pescetto quindi quindi sicuramente voi dovete insomma dire agli imprenditori che ci guardano guardate che il poi non lo so maggio il mini pond è uno strumento valido è uno strumento valido direi il pubblico si divide in due no gli imprenditori che si devono affacciare a questo mondo gli advisor sono quelli che accompagnano l'imprenditore ma c'è un lavoro ancora molto più importante qual è che è quello di educare gli investitori a sottoscrivere il mini pond perché non esiste un mini pond di successo se poi non viene sottoscritto ecco quindi concentrarsi sì sull'emissione mini pond la data room la preparazione dell'azienda la cultura dell'azienda avvicinarsi a questo mini pond ma anche come fa Tommaso curare a livello culturale gli investitori ad apprezzare anche a capire questo linguaggio dei mini pond oggi siamo ai primordi cioè il mini pond è nuovo l'anno scorso hanno iniziato le piattaforme crowdfunding a rivolgersi a un nuovo in realtà il mini pond viene da lontano con l'arrivo delle piattaforme di crowdfunding sta avendo una nuova giovinanza eh ma va al retail non è ancora arrivato al retail agli investitori professionali poi speriamo che sia un'ulteriore apertura verso retail però sono investitori che prima non avevano accesso al mini pond il mini pond lo sottoscrivevano le banche, gli istituzionali erano loro che dettavano le regole ora c'è un avvicinamento a questo mercato noi la seconda volta come hai detto che emettiamo un mini pond devo dire che il primo ha avuto un discreto successo 6% davanti 6% mi ricordo bene 6% perché quando tu ti presenti la prima volta sul mercato sai c'è sempre il dubbio della prima volta quindi come abbiamo fatto un po' a sbloccare questa situazione abbiamo dato un rendimento più alto rispetto a quello che era il nostro rating quindi abbiamo allettato l'investitore a dire caspita è imperdibile anche sul punto di vista della remunerazione quest'altro, il charity bond invece abbiamo giocato su un altro tipo di leva rispetto agli investitori la verità che ho riscontrato dal primo intervento a quello degli advisor è che l'imprenditore illuminato debba avvicinarsi comunque al mondo dei mini bond perché è un'alternativa alla finanza tradizionale e non deve contare che questa finanza tradizionale bancaria ci sia sempre anche in futuro e chi prima si affaccia e prima fa esperienza come abbiamo fatto noi l'anno scorso anche se la nostra emittente non ha necessariamente bisogno di mini bond per finanziare le sue attività perché le finanzia principalmente con l'equity giustamente anche tu avevi detto c'è anche l'equity, ci sono altre forme per finanziarsi però il mini bond il primo che inizia poi sarà pronto per quando ci saranno le grosse opportunità anche quando tutti gli investitori educati vorranno sottoscrivere decine di milioni di euro di mini bond ma il di sé la vedo scalpitare no perché Emerick secondo me è quello che è emerso è quello che è un po' l'obiettivo di questa trasmissione è far capire questo nuovo strumento crowdfunding si è fatto peso di fare education dal 2016 attorno al mondo dell'equity crowdfunding oggi ripartiamo se vogliamo un po' come nel 2016 ovviamente con delle competenze e con degli strumenti come class che ci permettono di velocizzare questa education attorno al mondo del mini bond come dicevete prima investimenti in cedole fisse che danno il 6% il 5% ma anche il 4% poi secondo me Paolo sarà molto interessante capire questo charity bond perché secondo me soprattutto in questo periodo è molto attuale come utilizzare, investire in questi strumenti scusatemi per andare a diversificare il proprio portafoglio notizia di qualche mese fa che Fineco addirittura ha incominciato a sarti i tassi sopra i 100 milioni, 100 mila euro magari, averceli dico sopra i 100 mila ha cominciato a sarti le giacenze e beh allora a questo punto facciamo conoscere questi nuovi strumenti che sono investimenti in economia reale sono investimenti che non dai a una banca ma che dai a un imprenditore, a un'impresa e che se questa impresa, questo imprenditore ha fatto una due diligence grazie agli advisor grazie a Mood Finance, grazie al timbro di Milano Finanza adesso ovviamente lungi da me da dire che sono strumenti garantiti però se mettiamo l'investitore in condizioni di avere tutte le informazioni necessarie per portare a casa un ottimo rendimento beh strumenti garantiti sicuramente hanno un livello di garanzia più elevato rispetto all'azionario quello è normale, cioè normale è il prodotto allora parliamo del charity bond è in emissione da quando? Quando è partito? la prima decina di maggio charity bond, che cos'è charity bond? ma guarda ci abbiamo dedicato anche la puntata però lo ripeto volentieri la parte charity di questo mini bond è il fatto che noi abbiamo voluto lanciare una sfida ai nostri investitori come detto abbiamo già fatto una raccolta di un milione e tre l'anno scorso con un mini bond al 6% sapendo che era un rendimento molto elevato rispetto al nostro rating di mercato stiamo parlando di interessi negativi nel mondo esatto, azienda quotata comunque sul mercato quindi un emittente di 9 TRFK che sicuramente non ha problemi a rimborsare questo mini bond o a pagare le cedole a scadenza però come ha detto Tommaso c'è un processo di educazione noi vogliamo essere i primi innovatori in questo mercato come lo siamo stati anche sulle emissioni anche di equity crowdfunding ecco, ci sentivamo di fare un po' di più che non dare un rendimento alto ai nostri investitori e la sfida cos'è stata? è stata proporre un rendimento leggermente più basso quindi il 4% rispetto al 6% rispetto magari a un nostro rating che ci avrebbe detto suggerito un 4,8% qualcosa del genere ma riteniamo che oggi il sottoscrittore di questi mini bond non sta a guardare lo 0 virgola nel senso che la nostra sfida è stata quella di dire va bene se tu accetti di avere questo rendimento che è comunque elevato noi comunque nei nostri conti contiamo un costo del 6% cosa vuol dire? che il 4 lo diamo a te ma il 2 lo daremo in iniziative charity per farlo abbiamo dovuto appoggiarsi a un'organizzazione che fa questo di mestiere che sono i Lions Club International e che quindi gestiscono già operazioni con onlus e con finalità caritatevoli che ci aiuteranno a selezionare gli investimenti le donazioni in realtà e anche a certificarle perché poi come azienda quotata abbiamo bisogno di una certificazione che le attività sono state fatte e le documenteremo anche per i nostri investitori quindi ogni 6 mesi che è l'accedo alla semestrale e che quindi l'investitore riceverà sul suo conto corrente gli interessi semestrali e riceverà anche dall'altra parte il risoconto di questa attività a social impact Arriva a Baldissera Pacchetti ai retail, il mini bond perché secondo me, non lo so, ma mi dà come l'impressione che il legislatore è piano piano giustamente piano piano però è lì che dobbiamo arrivare Ci stiamo arrivando La risposta è letteralmente sì arriva a retail noi abbiamo collocato IRFK prima 3A adesso e IMI a una clientela retail dove contiamo più di 40 sottoscrittori adesso non è che siano numeri importanti però generalmente un mini bond era collocato a 3-4 investitori istituzionali oggi stiamo riuscendo grazie al processo di investimento che viene fatto completamente online attraverso una procedura che può durare dai 5 ai 10 minuti fai l'investimento e lo puoi fare tranquillamente da casa senza passare dallo sportello bancario quindi si va anche se vogliamo disintermediare quella che è la banca e ad agevolare l'investimento in questo genere di strumenti cosa molto importante rispetto all'equity è il fatto che l'obbligazione quotata o non quotata risulterà poi dopo nel proprio portafoglio del proprio intermediario finanziario quindi ho un conto corrente Fineco, Uidiba o chi per esso mi ritroverò l'obbligazione perché vengono dematerializzate tramite montetitoli oggi queste nostre operazioni le facciamo con Banca Finint che si parlava prima di Paying Agent che fa tutta la parte di pagamento e di settlement dell'operazione e quindi vedete come mettendo assieme tutti i vari player forse due molto tecnici del quale però non abbiamo parlato oggi che sono Banca Finint e Montetitoli si riesce a dare una solidità proprio a questo processo e veramente collocarli come se fossero praticamente da un punto di vista immaginario uno strumento finanziario tradizionale poco cambia rispetto a un'obbligazione di IENI piuttosto che un'azione di Coffiat o di Stellante proprio se la ritrovi in portafoglio il tempo di sottoscriverla è bassissimo quindi sì, stiamo aprendo a retail il processo che ovviamente è arrivare alla clientela retail è sempre abbastanza lungo perché giustamente bisogna spiegare per filo e per segno come funziona bisogna andare a creare casi di successo in modo tale che poi dopo i più scettici vadano ad investire ma la cosa secondo me molto virtuosa del bond virtuosa, completamente diversa ma secondo me che gioca a nostro favore rispetto all'equity è che il bond paga delle cedole sia in forma bullet sia in forma ammortizing io ogni sei mesi, verosimilmente poi dipende da come è costruito il bond però ho degli incassi e quindi una volta che si incominciano a ricevere gli incassi delle cedole beh allora vuol dire incomincio a capire che il sistema funziona e quindi magari per diversificare il tuo portafoglio mini bond vai a investire in altre emittenti ed è quello che sta già succedendo con Crowdfundme pescetto, se non ricordo male il primo mini bond che avevate fatto l'avevate quotato sull'extra moto Procube giusto, era il Procube questo qua invece è il charity no no c'è una ragazzina particolare? guarda non abbiamo visto diciamo una grandissima attenzione da parte dei sottoscrittori all'esigenza di scambiarsi il mini bond ha avuto degli scambi no però limitatamente chi sottoscritto questo strumento ah beh a 6% davate chi sottoscritto questo strumento se lo vuol tenere è il rendimento cioè superata la barriera iniziale del mi fido o non mi fido uno strumento nuovo eccetera e io suggerirei sempre prova con un chip addirittura 10.000 euro abbiamo messo quindi e sono diciamo investitori professionali che hanno almeno un patrimonio investito di 250.000 euro quindi stiamo andando proprio vicino nell'ottica che dice Tommaso di fare un education dall'altra parte e aggiungerei che non vorrei passasse anche il messaggio che noi stiamo costruendo qualcosa contro il mondo bancario assolutamente no cioè anche le banche sono investitori da educare al mondo dei mini bond d'altronde le banche oggi con la pressione sui tassi che hanno vanno a prestare alle aziende all'1,5% non c'è nessuno che evita di investire sul vostro mini bond poi tra l'altro le banche sul mini bond hanno la garanzia del 90% di MCC così come ce l'hanno negli altri strumenti ma guadagnano il 4% per una banca che oggi ha la possibilità di accedere ad un funding allo 0, impiegarlo al 4% è una grande occasione lo sforzo che stiamo facendo con Tommaso è anche educare i dipartimenti del credito delle banche a guardare a queste emissioni come un'alternativa ai loro impieghi il guadagno c'è sia per il privato ma anche per la banca ancora di più che è garantito da MCC per gli istituzionali quindi è una grossa opportunità di aprire un mercato per tutti non siamo contro le banche siamo tutti uniti Tommaso ha citato il nome anche di due tre banche io ovviamente per onore cito la Val Sabina che è la prima banca che ha sottoscritto il charity bond anche superando loro sì che tecnicamente ci hanno fatto appunto hanno guardato il 6 il 4 perché hanno gli analisti che sanno fare questa cosa però lo stesso hanno ritenuto conveniente diciamo sottoscrivere il charity bond di RFK anche perché ripeto dire l'emittente l'azienda sotto è estremamente solida abbiamo una capitalizzazione di 16 milioni a parte il mini bond non ci sono altri debiti in azienda e la nostra storia ha fatto vedere che abbiamo un rendimento per l'equity del 30% e dei flussi di cassa sufficienti a garantire sia le cedole che il ritorno del capitale questa cosa del comparto bancario non è una cosa da poco perché se arrivano le banche il mercato decolla mi sembra un po' sicuro assolutamente Paolo giustamente cita Banca Valsabina che è veramente un caso virtuoso di banca che va a investire in un emittente che a sua volta poi investe in altre imprese secondo me il messaggio che deve passare è che se gli emittenti hanno superato questo periodo se sono reitate se hanno tutto fatto una due diligence advisor legali finanziari e tutto ecco andare a investire in emittenti che chiedono dei mini bond vuol dire andare a rinvestire in economia reale vuol dire far ripartire il sistema questa forse è un po' la parte un po' più filosofica però secondo me è molto valida in questo periodo dove bisogna veramente andare a iniettare liquidità per andare a far ripartire un sistema che è stato fermo di 18 mesi e qua il mini bond così come l'equity due strumenti completamente diversi ma complementari possono veramente dire la loro i numeri dei mini bond 5 miliardi di euro raccolti sottoscritti l'equity che parliamo di oltre 200 milioni di euro ecco sono tutte iniezioni di liquidità per società che oggi ne hanno bisogno e ripeto con le dovute informazioni alle spalle secondo me è un investimento che veramente può all'interno di un portafoglio tradizionale essere diversificare e dare degli ottimi rendimenti allora siamo arrivati al termine del nostro speciale mini bond day innanzitutto grazie a entrambi e a tutti i relatori che sono stati presenti per averci spiegato un po' tutta come funzionano i mini bond dall'inizio alla fine la lancio lì facciamo una seconda edizione magari per vedere se decolla il business dei mini bond ci state? è andata? sottoscrivo in pieno ti dico già due numeri l'anno scorso abbiamo lanciato due mini bond quest'anno siamo già a quattro quindi sicuramente sta partendo il mercato si tratta di creare tante educazioni ed eventi come questo servono per informare investitori ed imprese grazie mille Paolo Pescetto IRFK è stato un piacere a Pescetto grazie mille a Tommaso Baldi Serapacchetti come for me grazie mille alla prossima allora terminiamo dunque qui il nostro speciale mini bond day spero insomma che sia stato utile lato investitore e lato imprenditore e insomma rimanete su Classi NBC grazie a tutti a tutti grazie a tutti grazie a tutti